Croton, vedi? Croton coltivato così nella vaschettina piccolina, e queste bugonville. E questa che roba sarà? E quello cosa sarà secondo te? Quello va bene per cosa? Per fare i bonsai, vedi? Con quel fiorellino sembra quasi un giocciomino, sembra quasi profumato. C'è il tronco di cemento con di cose e qui dentro ci metti la pianta che diventa grande. Queste sono bugonville, vecchie, basche, sagede, crisantemi, pacchi podium, Buongiorno! questi cos'è guarda, il melograno, cos'è questo qua? Ti porto in Italia, ok? Ok, Renzo vai a farti una foto con queste due belle signorine, vai, vai te, vai te, vai te, stai andando eh, posso venire qui, guarda, fai un po' Italia 1? E facciamo anche una foto? Allora sta foto, arriva? Ok, fatta, thank you, thank you, thank you. E viste dove sono simpatiche? Basta digli qualcosa? Devi vedere queste qua, guarda. Grazie. Renzo, te non hai capito niente, tu non devi comprare, tu devi esportarle qua che non ci sono. No, queste sono qua. Ah, quelle lì, ho capito, no, dico le piante grasse. Così con i fiori, sono queste che dicevi te? Sì, a dire, sono le mie. Quanto costano queste? Eh, non me lo dice. Non lo sa? No, non lo sa, non capisce l'inglese. Ah, no, che pisto. Un cianci, un cianci, un cianci. No, che pisto. Questa è io, diciamo. Che cosa? No, non possiamo scrivere che cosa? No, tanto per avere un'idea. E chiamiamo Lomarino, eh? Chiamiamo Vizzellino.